Il big match della serata, veniva Liverpool contro Fulham, il Fulham ha vinto con in campo Silvio Librone e Viaggio Ferraro. Com'è andata la partita? Beh, è stata una partita molto dura, gli avversari erano in forma, corrivano su tutti i palloni. È stata tirata fino alla fine, ma abbiamo resistito e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Dovremmo dare sicuramente una lode a Christian Lusco, ha fatto un partitone, parate da ogni posizione. È stato straordinario questa sera, un po' di fortuna, un po' di bravura, ce la siamo cavata. Un plauso va a lui e complimenti a tutta la squadra che stasera ha dato il massimo. Mancavano Stefanov e altri elementi, non avete giocato bene da inizio del campionato, forse questa è la prima vera prestazione da Fulham. Sì, vabbè, le motivazioni sono comunque tante, perché vogliamo, non dico ripetere il cammino dell'anno scorso che è stato perfetto, ma vogliamo dimostrare che abbiamo raggiunto un certo livello e vogliamo mantenerci su quei livelli. Vabbè, un attimo solo. Una domanda sul capillo? In bocca al luce.